Sole, spiaggia, crema abbronzante, ma anche musica e sport. Così a Lido di Venezia, grazie al nuovo campo da padel, si scatena l'entusiasmo. La prima edizione di Lido Padel è stata vinta da Andrea Fido e Eddy Massarotto e ha visto in campo 12 coppie maschile, suddivisi in due gironi, contendersi il trofeo. Ma soprattutto, un'intera giornata è stata dedicata a far conoscere gratuitamente questo sport a chi non lo aveva mai sperimentato. Siamo anche molto stupiti del successo che sta avendo il campo in soli 20 giorni dalla sua apertura. Un campo che naturalmente è amovibile, è stato fatto in maniera armonica perché i colori riprendono naturalmente quelli che sono i colori della sabbia. Il torneo dei Big ha concluso una giornata di prove gratuiti per tutti che hanno esaurito in pochi minuti tutte le prenotazioni disponibili. Otto coppie maschili in campo, per cui 16 partecipanti, che in base ai tempi di gioco non era possibile aggiungere di più avendo un campo a disposizione oggi. Però la presenza è molto interessante perché abbiamo diverse regioni presenti. Tra i protagonisti in campo anche l'ex attaccante del Venezia Calcio, il bomber Manolo Gennari. È un modo per stare in compagnia tra amici e avere una favola di sfogo. Poi il gioco in sé piano piano ti tira dentro e cerchi di capire i trucchetti di quelli forti e cerchi di migliorare perché comunque l'indole agonistica mi è rimasta e quindi c'è la voglia di competere. Ecco